Ciao tifosi napoletani! Oggi parliamo di un tema scottante riguardante Quicacvaraschelia, che ha suscitato molte discussioni dopo la partita contro il Monza. Nonostante un ottimo avvio di stagione, il giorgiano sembra non essere del tutto sereno in campo. Dopo una fantastica stagione che ha portato lo scudetto, sta gradualmente ritrovando la sua forma migliore, ma c'è una sensazione che qualcosa lo stia turbando. Quara appare nervoso e meno soddisfatto, ma è fondamentale sottolineare che questo disagio non sembra essere legato alla sua situazione contrattuale. Durante il match contro il Monza, Quara è stato sostituito al 75esimo minuto da Mazzocchi e ha lasciato il campo visibilmente irritato. Alcuni tifosi hanno ipotizzato che il suo nervosismo possa derivare da un possibile dissidio con Antonio Conte, una situazione già notata nella partita contro la Juventus. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, la vera causa della sua insoddisfazione potrebbe essere il trattamento duro che riceve dai suoi avversari. In ogni partita, Quara subisce contrasti aggressivi e, nell'ultima sfida, è stato Armando Izzo a tentare di fermarlo in modo molto deciso. Nonostante tutto, Quara ha risposto alla provocazione segnando il gol del 2-0, dimostrando ancora una volta quanto sia difficile fermarlo. Nel frattempo, Romelu Lukaku non ha ancora convinto del tutto con le sue prestazioni, specialmente dopo il match contro il Monza. Contro la Juventus, è stato annullato da Bremer, mentre in Coppa Italia ha giocato solo pochi minuti. Tuttavia, nella partita contro il Monza, Lukaku ha dato il massimo, facendo il lavoro sporco, proteggendo palla e creando spazi per i compagni. La Gazzetta dello Sport gli ha assegnato un voto di 5,5, giudicando la sua prestazione insufficiente. Al contrario, Corriere dello Sport e il Mattino sono stati più generosi, attribuendogli un 6 e sottolineando il suo impegno e dedizione alla squadra. E tu, tifoso, cosa pensi delle difficoltà che Kvarazkelia sta affrontando in campo? E la condizione fisica di Lukaku è ancora insufficiente? Lascia il tuo commento qui sotto e non dimenticare di mettere un mi piace per sostenere il nostro canale.